Il giornalismo 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 Sono un giornalista e sono pagato per creare polemiche per fare in modo che arrivino più click possibili nel giornale per cui lavoro Stiamo trattando le notizie esattamente come se fossero cibosbazzatura Ti dicono forza la notizia forzala perché così attrai il lettore del web Come titolo io pensavo una cosa tipo avete bullizzato zuckerberg ora la sua reazione Così? Eh sì, qualcosa Ok Ok You make a dream Wow Because you're doing what we would like to do but we can't Of course you can Siamo passati dal dire che Twitter e social network avevano prodotto Obama e le primarere arabe a demonizzarli perché producono Trump e i populismi e insomma è sempre quello però eh c'è sempre L'incertezza c'è sempre l'incertezza c'è sempre la propaganda la gente spieglia cose che sperano essere o che vogliono essere true Se vogliono la truste del pubblico devi perciò a loro come Il genio è Ermis Mayonne Il principale creatore di bufale italiano Sì, è un movimento, e abbiamo un manifesto, e siamo a un marchio. Noi non solo rappresenta il mondo in un modo fondamentale, ma anche ci rende un cynico, ci rende più diventati. Quindi, cosa rende giornalistico valore oggi? È non solo di muovere informazioni, è di comprendere informazioni. Abbiamo bisogno di una economia positiva, che è un'espressione del poeta Artur Rimbaud. Questa è una battaglia per i fatti verificati in un contesto proprio, per la significazione delle storie, e penso che sia una battaglia per la qualità delle nostre democrazioni. Il mio obiettivo principale è avere un'informazione forte, e avere un giornalismo forte, perché con un giornalismo forte è una democrazia forte. Non siamo i salvatori di nulla, siamo solo un antidote per ciò che sta succedendo. C'è qualcosa di vero? Eh, 50-50. Tutto tutto in un documento di film? Un giornalista semplice sembra una idea molto bella, ma puoi raccontare per me? Ciao ragazzi! Ciao! Noi. Il penso che inizia有are, ov microwave, ci sarà naturale in una relazione di sendo effettaciopoli a 110ze. La prima volta nelle ore sono 1,5 Ga이야? Non, 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 non? C'è qualcosa di più difficile dobbiamo essere l'affetto in stagione weis adv mere. Come ave, qu詠ogici una terra, o cammino per il certo che che ci sia un diplomatico di fondo ... Grazie a tutti.